Quando l'immigrazione diventa maggioranza, impone le sue regole, lì non c'è integrazione, lì c'è l'anarchia, lì c'è il casino, quindi il controllo dell'immigrazione, non siamo contro l'immigrazione, siamo contro l'immigrazione irregolare e incontrollata, perché poi ci sono migliaia di immigrati che fanno bene il loro lavoro, che pagano le tasse, che hanno la casa popolare, che mandano i figli a scuola, non è il problema dei bianchi contro i neri, è proprio delle persone per bene e delle persone per male, quindi secondo me qua non occorre la rivoluzione, qua se uno inizia a fare quelle tre o quattro cose che ad oggi può fare senza spendere troppi soldi, i bambini vanno ai giardini e le signore escono di casa anche la sera.